Qua ragazzi da Sandro Cane, oggi ci mangiamo una burrata della brand Vesuviane, ovviamente qua arriva in Cina congelata, ma è sempre meglio di quelle che producono qua, è più controllata almeno, ok? Bene, assaggiamo questa, mi sono fatto anche una mediterranea per accompagnarla, vediamo com'è, la apriamo, non sembra male, andiamo a vedere. Non male, non male, ovviamente quelle italiane fresche sono migliori, ma per quello che si trova qua in Cina, che vi dico, si trova meno che in Thailandia o in altri paesi, perché non importa veramente sotto restrizioni. E specialmente le cose le trovate sotto i fornitori, perché i supermercati normali non vendono quasi niente di western. Non male, non male. Bene, dai, direi che oggi è ottimo. Iscrivetevi. Ciao, ciao.